Il presidio ospedaliero di Agropoli avrà i suoi servizi che saranno a breve potenziati. Queste le parole rilasciate ai nostri microfoni dal consigliere regionale Franco Alfieri in merito alla situazione ospedale della cittadina agropolese soffermandosi sui servizi che sono stati finora attivati e dichiarandosi fiducioso per il futuro. Il piano ospedaliero va letto in una maniera più corretta e più tecnica ed è chiaro che chi vuole leggere nel piano ospedaliero della regione Campania ospedale di Agropoli non lo troverà mai. Oggi il presidio ospedaliero è Agropoli, Vallo della Lucania. Il presidio di Agropoli avrà i suoi servizi che saranno a breve potenziati e dobbiamo sempre ribadire per chi ha dimenticato che questo è un ospedale che da altra giunta regionale, da altra gestione politica è stato chiuso con i catenacci e che piano piano e lentamente ha avuto restituiti alcuni servizi che erano anche territoriali, il laboratorio di analisi, la radiologia. È stato aperto un pronto soccorso anche se ritenuto come zona svantaggiata. si sta lavorando e stanno lavorando ormai i lavori per le sale operatorie, per il week sorgere, cioè gli interventi programmati fino a otto giorni di degenza sono completati e sono state già bandite le gare per le attrezzature, ma ci saranno delle interessanti novità. Poi essendo un unico presidio ospedaliero, quello di Agropoli e quello di Vallo della Lucania, si deve ragionare in termini di ospedale unico, quindi se finiranno come sono finite, io credo sono finite queste bighe paesane tra Vallo e Agropoli, si ragioni in termini di ospedale unico, vedrete che il territorio ne avrà soltanto benefici. Quindi per chi ovviamente specula e c'è gente a cui fa piacere che le cose vadano male perché se no finisce la propaganda politica contro qualcuno e contro qualche partito o qualche persona, io credo che tra qualche mese le cose saranno cambiate e cambieranno. Sono molto fiducioso, c'è uno stretto rapporto e soprattutto c'è una settimanale frequentazione con il commissario per le vicende che riguardano la sanità della provincia di Salerno e della sanità a sud della provincia di Salerno. Certo le cose non vanno benissimo e problemi ce ne sono tanti, però io credo che la regione campane che da tre anni chiude il bilancio non in perdita e la sanità non chiude in deficit e soprattutto si sta facendo una programmazione importante, è la prima volta che viene approvato un piano ospedalire e le cose non ci debbono soddisfare, io credo che il confine per migliorare le cose deve essere sempre spostato, ci stiamo lavorando, c'è chi lavora e c'è chi sbraita sui social. Io sono uno di quelli che parla poco, che ha dimostrato nella sua attività politica di fare le cose, di essere concreto anche sulla questione dell'ospedale dove siamo stati mortificati ma non da questa giunta regionale, da altre amministrazioni regionali, avremo la nostra soddisfazione e saranno riaffermati i nostri diritti anche senza voler pretendere cose assurde e senza voler pretendere che ognuno sotto casa possa avere un ospedale con tutti i reparti, con tutte le sale operatori e con tutti i servizi. Il territorio deve essere munito dell'emergenza e dei servizi che diano livelli di assistenza a un territorio e credo lo dobbiamo fare con tutti gli ospedali del territorio. Se riusciamo a dare anche una specialità al nostro ospedale così come faremo io credo che recupereremo anche questa ferita che più di altri credo abbia pesato anche su chi vi parla nelle scorse elezioni politiche.